siamo con il vice direttore della tecnica della scuola reginaldo palermo per fare un po il punto su tutte le ultime novità che riguardano il mondo della scuola allora professore partirei con il decreto reclutamento con quello che riguarda quelle che saranno le ultime novità per quanto riguarda il reclutamento docenti se ne parla ci sono stati diversi incontri tra il ministero dell'istruzione del merito e i sindacati cosa possiamo dire su questo intanto premettiamo una cosa che il confronto fra ministro ministero e sindacati è ancora in corso proprio in queste ore c'è ancora la chiusura di un incontro ma probabilmente ce ne sarà ancora un altro forse altri quindi la situazione non è ancora definitiva quello che sembra di capire in questo momento è che si parla di concorsi abbastanza imminenti e soprattutto si parla della volontà del ministro di fare concorsi annuali su questo va subito detto che l'idea l'ipotesi di fare concorsi annuali è certamente allettante per tutti quanti però incontrerà sicuramente parecchi ostacoli come abbiamo anche osservato in questi giorni anche intervistando esperti del settore intervistando anche sindacalisti il problema è che i tempi della burocrazia i tempi dell'amministrazione sono abbastanza lunghi quindi fare un concorso ogni anno sarà davvero molto molto difficile poi c'è il problema che comunque sia se anche in primavera si dovessero già fare i primi concorsi non è ancora del tutto certo che i vincitori di questi concorsi fatti in primavera possano entrare in ruolo già a partire da settembre a meno che non si adottino delle procedure molto molto semplificate un po analoghe a quelle dell'ultimo concorso e cioè con le famose con le famose prove a crocette che però a quanto pare non piacciono a nessuno la situazione direi che è ancora abbastanza fluida io aspetterei ancora qualche giorno per capire se davvero questi concorsi ci saranno ci saranno proprio già nei prossimi mesi o se dovremmo ancora aspettare ecco eh passiamo invece al decreto mille proroghe anche qui cerchiamo di capire se ci sono delle novità sappiamo che sono stati presentati diversi emendamenti e quindi insomma proviamo anche qui ad approfondire la discussione professore allora intanto eh diciamo che eh questa settimana è andata avanti presso la commissione affari costituzionali del senato la discussione sulle decreto mille proroghe che dovrà essere convertito in legge entro fine eh febbraio e eh diciamo che eh siamo al punto che eh sono stati chiusi i termini per la presentazione eh degli emendamenti ci sono più di mille emendamenti in totale presentati da tutti i gruppi politici quelli più significativi o meglio quelli che avranno più probabilità di essere accolti sono ovviamente quelli presentati dai partiti di maggioranza fra questi ne segnaliamo tre di emendamenti uno è quello che riguarda le criticità del concorso per dirigenti scolastici del duemiladiciassette eh si aspetta appunto una soluzione a questo problema complicatissimo eh vediamo che cosa eh il senato deciderà appunto in merito l'altro tema è quello molto atteso da parte di eh migliaia e migliaia di eh insegnanti e che riguarda le deroghe ai vincoli eh sulla eh mobilità. Eh sembra appunto che ci sia un emendamento in questa direzione presentato da Fratelli d'Italia e probabilmente sostenuto anche dagli altri partiti della maggioranza e quindi vediamo anche qui che cosa capiterà durante il dibattito in aula che sarà a partire però dai prossimi giorni. Infine eh l'ultimo eh argomento di ehm di ehm degli emendamenti è quello che riguarda l'integrazione delle graduatorie dell'ultimo concorso straordinario bis. Anche qui si tratta di un emendamento molto atteso da migliaia e migliaia di docenti. Vedremo appunto nelle prossime ore, nei prossimi giorni come si muoverà la commissione ma soprattutto poi come si muoverà l'aula del senato in merito. Bene allora in chiusura del nostro appuntamento settimanale professore parliamo di eh qualcosa che è accaduta proprio in questi giorni e di cosa si tratta esattamente? Il venti di gennaio ha compiuto centocinque anni il decano dei pedagogisti italiani e cioè il professor Francesco De Bartolomeis. De Bartolomeis è stato sicuramente eh uno dei più grandi pedagogisti italiani del novecento, ha eh portato molte novità nella pedagogia italiana, ha portato in Italia eh autori, studiosi, ricercatori importantissimi a partire da di lui ma poi tanti altri ancora dopo di lui ecco il venti gennaio ha compiuto ha compiuto centocinque anni ancora due mesi fa ha rilasciato una interessante e divertente intervista al al quotidiano domani in cui ha definito il ministro Valditara una autentica disgrazia insomma è una persona che nonostante la sua età continua a essere un punto di riferimento importante nel panorama pedagogico e culturale del nostro paese. Noi ne abbiamo parlato con eh Enrico Bottero pedagogista e ricercatore anche lui e eh trovate appunto l'intervista ad Enrico Bottero nel nostro canale YouTube. Bene ringrazio il professor Reginaldo Palermo, vice direttore della tecnica della scuola e ci ritroviamo naturalmente presto con nuovi appuntamenti.